Continua spedita la ricostruzione privata post-sisma 2016 del centro Italia. Questo nonostante le difficoltà create dal caro prezzi, la concorrenza del super bonus al 110% e la difficoltà nell'individuazione di aziende per i lavori. È il quadro che si evince nel report presentato dal commissario Giovanni Legnini nel sesto anniversario della scossa del 30 ottobre 2016, la più forte dello sciame sismico. Nel terzo trimestre si è registrata un'accelerazione del numero di richieste di contributo presentate, mentre continua a crescere a ritmo sostenuto il numero dei decreti di contributo approvati e dei cantieri autorizzati. Anche la ricostruzione pubblica, così come quella delle chiese, registra avanzamenti positivi, grazie soprattutto alle ordinanze speciali in deroga con un incremento della spesa e del numero dei cantieri aperti. La semplificazione delle procedure della norma avviata a primavera del 2020 ha prodotto risultati tangibili. In questo arco di tempo sono stati aperti 11.000 cantieri della ricostruzione privata, 4.000 dei quali negli ultimi 12 mesi. Pochi giorni fa i contributi concessi sono arrivati a 15.000, passando da 1,6 miliardi di fine 2020 a 4,8 miliardi, mentre le somme effettivamente liquidate alle imprese sulla base dello stato di avanzamento dei lavori sono passate dai 684 milioni di euro di fine 2020 a 2 miliardi 284 milioni di euro. Gli edifici già riparati sono 7.762 per oltre 17.500 singole abitazioni riconsegnate ai cittadini, mentre 7.131 sono i cantieri attualmente in fase di lavorazione. I cantieri della ricostruzione pubblica aperti sono oltre 320, il doppio rispetto ad un anno fa, mentre gli interventi conclusi, tenendo conto anche delle chiese, sono 365. Il lavoro che resta da fare ancora enorme a fronte del danno causato dal sisma pari a 27,2 miliardi di euro, dei quali 19,4 relativi al solo patrimonio edilizio privato. Ma i fondi della ricostruzione si stanno aggiungendo i cantieri dei progetti finanziati dal fondo complementare al PNRR per le aree sisma 2009-2016 e Next Appennino.